Ok, iniziamo allora la conferenza stampa di Mr. Foschi in vista di Foggia, Lecco, finale di andata, playoff, vai Matteo, macchina Allora Mr, poco tempo per riposare, avete subito una trasferta lunga, molto lunga in un ambiente numericamente più o meno come ci sia, però credo più caldo ancora Ma sì, il campo poi è sempre lo stesso, anzi io trovo che sia bello poi giocare davanti a tanta gente come lo è stato Bella Cesena, credo che lo sarà a Foggia c'è una tifoseria molto attaccata alla propria squadra, alla propria storia e quindi abbiamo grande rispetto di tutto questo poi però in campo ci sono 11 giocatori contro altri 11 che si sbattaglieranno cercheranno di fare di tutto l'uno per sopperare l'altro come è giusto che sia, è una finale sappiamo l'importanza, sappiamo tutto quello che ci può preoccupare e ci può dar fastidio e quindi noi per quanto riguarda la partita la prepariamo dal punto di vista tecnico-tattico che l'ambiente possa essere ostile, questo lo si sa, però comunque poi rimane una partita di calcio dove tantissimi tifosi faranno del rumore, faranno il tifo per la propria squadra noi ci faremo forza insieme ai nostri tifosi, non so quanti saranno ma sicuramente saranno meno degli altri ma sono quelli che ci danno, anche se sono pochi, ci danno la forza e quindi sappiamo che è un martedì, quindi un giorno lavorativo la distanza è notevole, però sono sicuro che tutti quelli che verranno verranno a sostenerci e per noi saranno come fossero 100.000 ecco, questo è il senso, perché la nostra testa è proprio quella di prepararci al meglio per una partita dove l'importanza è veramente altissima e quindi vogliamo continuare a sognare, diciamo, tra virgolette con doppia coincidenza, in finale le due squadre, stando ai bookmaker che contano per quello che contano, più sottovalutate di quelle 16 che erano arrivate, diciamo così di quelle 20 che erano arrivate negli ottaventi finali, è numero 1 numero 2, due squadre che non solo sulla carta ma effettivamente, oggettivamente non muoiono mai, addirittura affoggia più dell'eco che segna e passa il turno regolarmente e tanto di capello, segnando gol nei minuti finali. Cosa vuol dire questo? Secondo me, poi io ho sempre detto dall'inizio che poi i playoff non hanno classifiche non hanno, non si può paragonare a niente, perché poi ci sono alcune squadre che crescono in modo esponenziale proprio in questo periodo, sono cresciute in modo esponenziale proprio in questo periodo. Io penso, penso anche, sento tanti ragionamenti e questo l'ho sentito anche alla fine della partita d'andata con il Cesena, ama nel vostro girone, avrebbe vinto facile, ama a voi, sembra quasi che il girone A sia sempre meno paragonabile a quello del B e a meno ancora quello del C. Io dico che poi i gironi hanno una storia a sé, è difficile capire se il Pescara che il girone A, chi lo dice che poi va ad Arzignano e vince, dico Arzignano perché è una piazza magari con poco pubblico, oppure poi, ah perché è più semplice. Io non so se è semplice andare a vincere a Trieste, a Vicenza, a Padova, a Novara, a Salò e chi più ne ha più ne metta. Quindi credo che i paragoni siano fuori luogo, non si può paragonare, perché magari una squadra nel girone C o nel girone B fa tanti punti di più, poi però la metti in un altro girone e non ha mica detto che faccia gli stessi punti, li può fare anche di meno. Quindi questi paragoni non hanno senso. E poi dico che secondo me il calcio si divide in due sfaccettature, diciamo così. Sulla carta ci sono le squadre più forti e sul campo ci sono le squadre più brave. È molto semplice, non è detto che vinca sempre la squadra più forte. E secondo me questi play-off, non parlo per noi, stiamo parlando del Foggia. Il Foggia è arrivato in finale perché è stata la squadra più brava, molto semplicemente questo. Se poi dopo dici ma è stata anche fortunata, ma ci vuole anche un pizzico di fortuna per arrivare in finale, sempre, chiunque. Se ci fosse andato il Pordenone piuttosto che il Cesena sicuramente ci stava un pizzico di fortuna. Quindi le squadre che sono arrivate in finale, oltre alla capacità e alla qualità della loro forza, sono state più brave e più fortunate, semplicemente questo. Altrimenti non andrebbero in finale. E quindi ci vuole grande rispetto di chi ottiene questo obiettivo, perché poi dopo è sempre facile parlare da fuori e dire tante cose. Però secondo me io poi tutti gli anni seguo. Giocare ogni tre giorni non è semplice. Ci vuole una forza psicologica, fisica, spirito di gruppo, capacità. Ci sono tante piccole componenti che vanno al di là della vera forza effettiva di una squadra con giocatori magari più forti di altri o così definiti. Alla fine poi in campo, lo dico tante volte, magari ci sono dei giovani che non vengono considerati e che dimostrano invece di essere all'altezza della situazione e che magari non si spaventano di tirare un rigore, ne so, davanti a 15 mila spettatori. Sì, mister, come hai trovato la squadra dopo Cesena? Qual è la condizione generale del gruppo? Che tipo di approccio ci si può aspettare per questa? La squadra al di là della stanchezza, che sicuramente è normale, abbiamo fatto questi giorni per cercare di recuperare le forze fisiche e mentali. Quelle mentali è chiaro che sono accompagnate dal grande entusiasmo e dalla consapevolezza di andarci a giocare una finale che è sicuramente una cosa bellissima essere in finale, è un obiettivo che tutti vorrebbero essere al nostro posto, è inutile che ci giriamo intorno, chiunque, tutte le squadre che abbiamo superato vorrebbero essere qui al nostro posto. E inoltre c'è anche il fatto di dire, caspita, noi adesso ci siamo, vogliamo, come dico sempre, buttare fuori fino all'ultima goccia di sudore per cercare di raggiungere un obiettivo che per noi sarebbe veramente stratosferico. Quindi c'è tanto entusiasmo, chiaramente stiamo cercando di recuperare un po' gli infortunati che non avevamo nelle ultime partite e visto che la conferenza la facciamo oggi, non vi so dire, domani ci sono alcuni test. Sono fiducioso sul recupero di alcuni giocatori, però questo lo saprò solo domani, dove oggi gli abbiamo evitato di fargli fare il test oggi, oggi hanno fatto un lavoro ancora a parte abbastanza intenso per cercare di capire se domani nella partitina che facciamo, anche nel preparare la partita dal punto di vista tattico, se possiamo contare sui vari Battistini, Galli, Lacti, Girelli, Ilari, Enrici, vado avanti? Però recuperiamo il dizionio dalla squalifica, perlomeno quello lo sappiamo. Mario, in questi play-off, la stampa, il mondo del calcio, si sta accorgendo di quanto è bravo Mr. Foschi. È una rivincita anche per te, insomma, tutto questo percorso che hai fatto e può essere anche questa finale? Io sono sempre molto in difficoltà su queste cose, nel senso che mia moglie mi definisce un po' un orso da questo punto di vista, perché non amo molti complimenti, sono sincero. Non mi sono mai preoccupato di quello che pensano gli altri. Mi è capitato di vincere dei campionati, perché è scritto negli ammanacchi che io a Olbea e a Novara ho vinto dei campionati. Però non mi sono mai preoccupato di quello che poi possa succedere dopo. Forse non mi so vendere, ci sta in questo mondo dove, diciamo che l'essere è meno importante dell'apparire. E io personalmente non mi sono mai preoccupato di questo, ma mi sono sempre preoccupato di essere me stesso. E' chiaro che un cuor mio, dentro di me fa piacere, non esterno magari, posso anche fare delle brutte figure, ma non è voluta, non è perché sono un presuntuoso o perché chissà cosa. Mi fa piacere che la gente apprezzi quello che sto facendo. Ma è chiaro che non lo sto facendo da solo, io lo dico sempre. Un allenatore diventa bravo se è accompagnato da uno staff adeguato, se i giocatori lo fanno diventare bravo. Altrimenti diventa un allenatore con delle buone idee, ma che poi sono fine a se stesso. Secondo me, io sono sempre molto contento quando, l'ho detto l'altra sera nella conferenza stampa post partita, quando la gente si rende conto che vince un gruppo, non vince il singolo giocatore, non vinci perché uno inventa un gol, ma vinci come squadra, come gruppo. In quello, che non ha nulla a che vedere con la tecnica e la tattica, in quello è chiaro che, sono sincero, mi fa sentire orgoglioso del rapporto che ho creato con le persone, semplicemente questo, al di là del calcio. Sicuramente, lei ha mai affrontato degli rossi in campo e soprattutto se l'è capitato di incrociarlo per qualche altra ragione? No, per mia sfortuna non ho mai incontrato degli rossi, perché mi sarebbe piaciuto incontrarlo, vuol dire che avevo già fatto la serie A o la serie B. E anche quando eravamo al Chievo, ero con Di Carlo al Chievo, a Livorno, così no, non ho mai avuto questa fortuna. L'ho conosciuto durante il corso allenatori e lui allenava la Lazio perché durante il Master si andava a visitare le società calcistiche, si andava sei o sette volte durante l'anno, che dura un anno il Master. e abbiamo avuto la fortuna di andare a conoscere o comunque cercare di conoscere il lavoro che faceva lui e la Lazio, visto che la Lazio stava facendo dei buoni risultati. È comunque un grande allenatore insomma. Ci mancherebbe altro. Un allenatore che ha fatto la serie A, non si discute. Altre domande? No? Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.